22 giugno 1941. Hitler invade l'Unione Sovietica. Si tratta della più vasta operazione militare terrestre di tutti i tempi e prende il nome di Operazione Barbarossa. Il fronte orientale diventa il più grande teatro di guerra del secondo conflitto mondiale. L'operazione, che avrebbe dovuto costituire il punto di svolta delle fortune militari della Germania nazista, risulta invece decisiva ai fini della sua sconfitta. Grazie a tutti.